... ... ... ... La mia figlia è andata e stiamo a votare di griffo, stiamo andando a Castellammare del colpo la mia figlia è andata e stiamo avanti a tutti i versi che vanno incontro Alla prossima ma è un piano ci vediamo dopo poi mettevo su Facebook eh caro mio siamo rovenate chi ora sono? tu nei quattro e mezza nooo sogno molto siamo quasi arrivati eh nooo sogno 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 è una giri da suuta è una giri da suuta si poi pi giri da suuta io non so cosa c'è stata prima che avessare capi che picchi che è stata ma non so non so ma non so E' l'aria! non no 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 e and 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 Ora prendiamo un po' vicino, e accostiamo! Castellammare del Golfo! Oh no! Andiamo! E' Rino! Io ho capito nessuno! Oh no! Oh no! la rezza la rezza o no è, lì ca ora a un'amunione da un po' ora ora l'argo 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 questo è la madre del golf guarda il canale è ridotto avrei ridotto è così, è così è così è così è così è così è così ora, a figlia è sotto un'aico è sotto un'aico è sotto di qua è sotto, è sotto, è la mia cosa aveto vetticides ho aveto aveto è so attenzione aveto ecco e già siamo ecco e già siamo ecco ma è un putello inizia perché fanno già la sera ancora capiste? stai a 500 stai a 500 che puoi che cazotto che cazotto che cazotto stai a 500 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 stai stai a 500 stai a 500 son da 500 un po' di motocicletta un po' di motocicletta io ero qui a meno che un po' di motocicletta è fermato il calcio, siamo a piedi ora guarda tutto il dogo su lì credo non ne cazzo vanno se sono no vanno fanno un giro e poi vanno se sono se caccia da chiusa non è che vanno fanno un giro vanno l'altro gli occhiali amici mi dicono non c'ha bene non c'è nessuno perché è un pietello e poi giuro non c'è nessuno queste pellegrine sono nostre allora un penso che si dice allora saranno già a Giappano Castello a Giappano Castello io mi dico che è troppo come c'è nessuno a Giappano Castello come c'è nessuno che c'è nessuno che c'è nessuno eh caro amico ehhh andò ehi ehi e cazzo addio a posto siamo benvenuti nel paese del bordello a aspetta ahahahhahah talked about it you can mi stanno vedendo un pescato come si vede? aiutatemi alasci! 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 e come? ora non può essere in più senza pettinatura come facciamo? a telefonare a telefonare a telefonare a telefonare mi vanno a fare una sacchetta la trovo da io giovane cosa le film? cosa le donne a telefonare ma sono veloci che cosa le fanno? questo con effetti speciali faccio gas ma non sono oh ma che si per la crina sono che si per la crina sono e tu tu solo non è tu una macchina di alberta o una macchina di andata dove? mi telefonavo saranno imbottigliate comunque ne sentiamo più tardi eeeh andiamo qui a un gioco una macchina una macchina semplice da io un castello un castello un castello un castello un castello un castello non capiamo quali fotografi video video ciao 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 buongiorno 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 ah su youtube, su youtube o per ora c'è la canzone che cantava a sera su youtube, no no su facebook quella devo dare, devo dare devo dare, devo dare la città, vacca, marrone l'acqua, il guida! ora, ora ci arrampiamo a posto siamo a mare che siamo Castellammare siamo! Addio da lì! Addio da lì! È operata! Sì, è perché c'era quella macchina Dio 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 Castellammare ritorno! Ritorno! Andata a moto e ritorno a macchina Eh? Tu lavi tutte queste cose! Andata a macchina e ritorno a macchina Addio da lì! No, no Sì! Sì! A posto! Ciao ciao Castellammare Alla prossima!